Musica Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Non ce l'ha fatta la bambina di 5 anni scomparsa sul litorale di Torre, annunziata dolore e rabbia. La morte della piccola Vittoria poteva essere evitata? La bambina di 5 anni che ha perso la vita sabato scorso nel mare antistante la spiaggia di Torre, annunziata, poteva essere salvata? Sono le domande angoscianti a cui la Procuro Plontina, attraverso il procuratore Nunzio Fragliasso e il sostituto Giuliano Schioppi, cercheranno di dare una risposta. Fascicolo aperto sull'ipotesi di omicidio colposo nell'ambito di indagini che devono chiarire numerosi aspetti della terribile vicenda. Il primo tra tutti una sorta di buco di tre ore tra la scomparsa della bambina dalla custodia della mamma alla richiesta di soccorso. E poi bisogna stabilire attraverso l'autopsia se la piccola sia morta per annegamento o per un malore sopraggiunto mentre era in acqua. In ogni caso è incredibile che nonostante la spiaggia piena di bagnanti nessuno si sia accorto di nulla. Il ritrovamento del corpo privo di vita è avvenuto grazie agli uomini della capitaneria di Porto a circa 80 metri dalla battigia, ben oltre le boe di sicurezza. Ma sono tanti gli interrogativi, tra questi la presenza o meno di addetti al salvataggio, pare infatti che nel momento della scomparsa fossero in pausa pranzo. Resta lo sgomento nei presenti, nel rievocare quei tragici momenti, le urla della mamma, Mina, quando si accorta che la figlia era scomparsa, con in braccio la solerina più piccola che richiama l'attenzione dei presenti e degli stabilimenti balneari tra il Lido Risorgimento e il Lido Azzurro. Poi il ritrovamento del corpo, la tragica corso in ospedale a Castellammare, la terribile notizia che Vittoria era morta. Arrestati i killer che ferirono in piazza nazionale la piccola Noemi, fratelli del re, dunque in manette i vertici del narcotraffico di San Giovanni, a Teduccio. Dall'agguato in cui rimase ferita la piccola Noemi al narcotraffico, i fratelli del re sono stati arrestati questa mattina dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di dieci persone accusate di narcotraffico. Al vertice dell'organizzazione c'erano appunto Armando del re e Antonio del re, collegati alla malavita organizzata di San Giovanni a Teduccio. I due erano già reclusi poiché ritenuti responsabili dell'agguato commesso il 3 maggio del 2019 in piazza nazionale nei confronti di Salvatore Nurcaro, legato a sua volta al clan reale, nel quale rimase gravemente ferita la piccola Noemi. L'organizzazione criminale capeggiata dai fratelli del re, secondo gli esiti investigativi, era una delle più attive nel traffico di stupefacenti nelle principali piazze di spaccio di Napoli e provincia. I rifornimenti avvenivano attraverso auto dotate di doppi fondi. I successivi approfondimenti investigativi hanno portato anche al sequestro di 3 kg di hashish e alla ricostruzione di linee di forniture di stupefacenti a favore di un sottogruppo operante a Cattolica in Emilia Romagna. Gli accertamenti economico-patrimoniali portati avanti in parallelo dal GICO della Guardia di Finanza hanno inoltre fatto emergere che la quasi totalità dei soggetti colpiti dai provvedimenti restrittivi sono beneficiari del reddito di cittadinanza. Allarme e roghi tossici a Rione Traiano. I residenti stufi e espongono finti cartelli di segnalazione delle telecamere di videosorveglianza sperando in una funzione deterrente. Avviliti dai miasmi dei continui roghi tossici, i residenti di Via Lattanzio nel Rione Traiano di Napoli sono arrivati ad affiggere persino finti cartelli di segnalazione delle telecamere di videosorveglianza pur di scoraggiare ulteriori sversamenti e incendi alla discarica abusiva che da due mesi rappresenta una preoccupazione non da poco per l'intero quartiere. Neanche lo spauracchio della videosorveglianza però è servito. Tre incendi soltanto negli ultimi cinque giorni e aria irrespirabile nelle case a tutte le ore del giorno e della notte. E' una vergogna, ci dobbiamo vergognare di essere cittadini italiani perché questa è una vergogna. Non siamo in grado di vedere quest'individuo che fa queste vergognate qua dentro qua, qua in questa strada. E' pericoloso ed anche inquinante perché questi sono tutti materiali nocivi. La prima denuncia degli abitanti risale a due mesi fa quando i gnoti hanno sversato bidoni pieni di fusti di vernice e materiale verosimilmente amianto. Se avete notato che questi sono rifiuti speciali molto probabilmente sono cantieri navali. I cantieri navali o stanno a Bagoli o stanno a Pozzuolo. Da queste parti stanno sicuramente. Una cosa è certa. Queste vernice è bruciata. Queste vernice è bruciata. Abbiamo fatto denuncia, sta denuncia a tutti, è possibile. Polizia ambientale, forestale, carabinieri che hanno messo tutta l'area sotto sequestro. Nonostante ciò hanno riacceso. La procura ha sequestrato la zona ma qualcuno incurante dei rischi per la salute ha comunque incendiato tutto. Incurante anche del fatto che a pochi metri insisto in un centro di salute mentale dell'ASL, una scuola elementare e il campetto dell'oratorio della parrocchia. La criminalità di chi ha portato qui questo materiale in modo illegale di notte, sapendo che nessuno controlla la zona. E di chi l'ha incendiato? Si è un'Italia. Purtroppo, io dico l'inciviltà di chi ci ha messo i rifiuti ordinari sopra, ma anche per colpa dell'ASIA, e questo è da denunciare. Perché non l'ha ritirato? Che ha portato via i cassonetti. Nel momento in cui la polizia ha messo i sigilli, l'ASIA senza autorizzazione e senza comunicazione ha portato via i cassonetti della netezza urbana, della spazzatura ordinaria. Quindi la gente della zona dove deve sversare l'immondizia. Purtroppo l'hanno messa sopra i rifiuti tossici. Con il caldo è iniziata la puzza e qualcuno, ancora più in modo semplice, illegale e criminale, ha pensato di risolversi il suo problema bruciando a più ore. Abbiamo avuto tre incendi in cinque giorni, in varie orarie, anche le tre di notte. Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre. Ben trovato. Salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, il giugno è un mese nero per i contribuenti, tante discadenze. Cominciamo a ricordare che entro il 16 giugno va pagata l'Imu? Dobbiamo dire che entro il 16 giugno c'è la scadenza dell'Imu, ad eccezione dei proprietari di prima casa abitata, però dobbiamo anche dire che in effetti se però trattasi di case di categoria catastale A1, A8, A9, cioè categoria di lusso, anche questi devono pagare l'Imu relativa alla prima casa abitata. E poi abbiamo anche l'acconto, l'acconto, abbiamo il primo acconto IRPEF. Abbiamo il primo acconto IRPEF. Il primo acconto IRPEF scade il 30 giugno, primo o unico acconto, unico acconto praticamente il primo dell'IRPEF rateizzata, si può pagare fino a 5 rate. Insomma è un mese indubbiamente difficile. Vogliamo fare chiarezza un po' su questo bonus di 200 Euro. Chi lo può avere e come si fa per averlo? Il bonus di 200 Euro lo possono avere i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi, praticamente lo possono avere anche i percettori di reddito di cittadinanza, le cose e quant'altro. Diciamo che praticamente quelli che nell'immediatezza è più probabile che lo possano ricevere, perché per gli altri la scadenza è un po' diversa, lo Stato in questo senso non si è ancora organizzato, sono lavoratori dipendenti e pensionati che potrebbero, anzi lo troveranno certamente entro il mese di luglio sulla pensione o nella busta paga. Dobbiamo tra le altre cose dire che in effetti per quanto riguarda i lavoratori dipendenti potranno trovare nella busta paga di luglio non soltanto i 200 Euro, ma anche l'eventuale rimborso da 730, se però riescono a presentare il 730 precompilato entro la prima quindicina di giugno troveranno il rimborso sulla busta paga o sulla pensione, tra le altre cose per quanto riguarda i lavoratori dipendenti per chi è prevista la quattordicesima mensilità, come per esempio i lavoratori del commercio o degli studi professionali, la quattordicesima la troveranno nel mese di luglio, quindi per luglio si prospetta per alcuni lavoratori, ma la busta paga è molto cospicua, molto pesante. Cuneo fiscale? Il cuneo fiscale per me è la risoluzione immediata del problema dell'erosione, dell'inflazione per quanto concerne i lavoratori dipendenti e pensionati. L'unico modo è cercare di abbassare le tasse a queste categorie in modo da cercare di limitare i problemi derivanti dall'inflazione. Infatti non dimentichiamo che si prevede un costo ulteriore per quanto concerne le famiglie di 2.500 euro all'anno proprio per effetto dell'inflazione, quindi il caro utenza, il caro carburante e quant'altro. Tra le altre cose si discute anche di salario minimo, però si discute, sarà una cosa al di là da venire, bisogna comunque poi pensarci bene, perché naturalmente facendo così si vanno ad aggravare i costi delle imprese, in modo particolare le piccole e medie imprese che già stentano ad andare avanti, quindi a me piace più la soluzione del cuneo fiscale. I lavoratori comunque trovano dei soldi in busta in più, allora naturalmente non interessa tanto da che cosa proviene trovare soldi in più in busta, interessa trovarli. In questo caso non graviamo sulle aziende, perché gravando sulle aziende si potrebbe accentuare la problematica dell'amoria di alcune di esse, ovviamente con la conseguenza che molti lavoratori dipendenti verrebbero poi licenziati e quindi un aumento della disoccupazione. Presidente, con la decisione della BCE di aumentare i tassi di interesse, cosa accadrà concretamente per il cittadino? Quali saranno le ripercussioni? Già si parla di un aumento dei mutui intorno al 2% e quindi è già un aggravio importante, ma soprattutto anche i cittadini, le imprese che si approcceranno alle banche per poter ottenere degli affidamenti dei mutui e quant'altro anche in quel caso naturalmente c'è la concreta possibilità, quindi la certezza di un aumento dei tassi di interesse. Dobbiamo però dire per contro che chi ha contratto, quando parliamo di mutui, di un mutuo a tasso fisso, ecco in questo caso nessuno si deve preoccupare, mentre si devono preoccupare quelli che hanno contratto mutuo a tasso variabile. Per questi certamente ci sarà un aggravio degli costi. Molti telespettatori, perché si parla spesso di coloro che hanno difficoltà, ma non si parla dei risparmiatori che fortunatamente in Italia sono tanti, si lamentavano che le banche addirittura per tenere dei soldi in conto corrente volevano un interesse. Adesso chiaramente ci sarà un'inversione di tendenza anche lì, le banche non potranno più chiedere un tasso per mantenere i soldi del risparmiatore. Ma speriamo che sia così, per il momento l'unica certezza è quella di cui abbiamo parlato prima, cioè la certezza che quando ci si approccia a chiedere alle banche sicuramente pagheremo di più, che siano disposte a dare di più su questo un po' di perplessità, di non dire la verità. Vedremo un po' nei prossimi mesi che cosa succederà. Per il momento tutti quelli che hanno i soldi fermi in banca sicuramente ci stanno rimettendo le cosiddette spese, tanto per intenderci. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo e gli auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi, alla prossima. Se volete interagire con la nostra redazione potete sempre farlo scrivendo al numero Whatsapp di Televomero 339 46 28 565. Un servizio. Il Consiglio regionale della Campania, presieduto dalla Vicepresidente Loredana Raia, si è riunito per il Question Time. Diversi temi, oggetto delle interrogazioni, dal ciclo regionale dei rifiuti in Campania ad iniziativa della consigliera Vittoria Lettieri di De Luca Presidente e indirizzata l'assessore regionale all'ambiente Fulvio Bonavitacola al programma Goal, garanzia di occupabilità dei lavoratori, attuazione in regione Campania ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello del Movimento 5 Stelle e rivolta all'assessore al lavoro Antonio Marchiello. Nell'ambito delle risorse del PNRR, l'anno scorso è stato presentato al Ministero del Lavoro il piano Goal, ossia il piano di garanzia di occupabilità dei lavoratori. Ci sono 4 miliardi e mezzo di euro stanziati a livello complessivo e la regione Campania può soffrire già di 120 milioni di euro solo entro fine anno, quindi la prima tranche. È stato firmato il decreto interministeriale, manca il piano di attuazione. Le altre interrogazioni scritte all'ordine del giorno erano rivolte al Presidente dell'Aggiunta regionale, Vincenzo De Luca, riguardando il settore della sanità. Situazione del pronto soccorso in Campania del consigliere Francesco Emilio Borrelli di Europa Verde, stato dell'arte dello screening dell'infezione attiva da HCV in Regione Campania del consigliere Tommaso Pellegrino di Italia Viva. La Regione Campania è tra regioni che ha dimostrato certamente la maggiore efficacia ed efficienza per quanto riguarda il trattamento nel percorso diagnostico terapeutico proprio dell'infezione di epatite C, dove c'è un'incidenza ancora molto alta e ancora più c'è un'incidenza di persone infette da epatite C mari con uno stato di fibrosi iniziali che però non sono state ancora sottoposte a terapia o quantomeno non sono dentro quella rete della nostra sanità. Chiarimenti per le procedure autorizzative e pianificazione degli impianti di cremazione del consigliere Pasquale Difenza di Azione. Regolamento, disciplina, formazione, elenchi provinciali, psicologi e gestione in carichi convenzionali del consigliere Michele Schiano di Visconti di Fratelli d'Italia. L'ordinanza di protezione civile relativa alla proroga personale e sociosanitario impegnato negli istituti penitenziari della Campania, del consigliere Severino Nappi della Lega e infine l'interrogazione sulla riapertura dell'ambulatorio per stranieri temporaneamente presenti ed europei non iscritti del Presidio Spelaliero San Gennaro e potenziamento dell'Asla Napoli 1 della consigliera Maria Muscara del Gruppo Misto. L'ospedale San Gennaro ha subito adesso un altro furto, un furto di diritti e un furto di sanità. Presso l'ospedale della Sanità in San Gennaro c'era un pronto soccorso che curava e ospitava 5.000 stranieri l'anno, cioè persone senza fissa dimora oppure stranieri che non avevano ancora riconosciuto la loro dignità di cittadini italiani. Si è tenuto a Napoli il ventesimo congresso della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale. La pandemia, gli effetti che ha avuto sul rapporto tra pazienti e odontoiatri, le conseguenze sulla rete della salute relativa all'igiene dentale. Se ne è parlato a Napoli durante la ventesima edizione del congresso della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale, presieduto dal professor Luca Ramaglia, ordinario di parodontologia della Federico II. Se già prima un 15% della popolazione italiana non si recava dal dentista molto spesso per motivi economici, le conseguenze della pandemia e con l'impatto che ha avuto su quella che è l'economia delle famiglie italiane ha ulteriormente aggravato questo distacco dalle cure odontoiatriche. Secondo noi questo è un dato allarmante che va denunciato con forza. Poi c'è bisogno di un'azione politica che vada un po' a sostegno dell'odontoiatria sociale di cui ce n'è tanto bisogno considerando che solo il 7% dell'attività odontoiatrica è su base pubblica. Una o due giorni sulla salute orale e sulla professione odontoiatrica. Nella seconda giornata di lavoro la sessione di due esperti internazionali come il virologo Roberto Burioni dell'Università San Raffaele di Milano e il primario di odontoiatria e il rettore dell'Ateneo Enrico Guerlone. Dobbiamo tenerci pronti per quando in autunno il virus potrebbe ricominciare a circolare tenendo presente appunto che questa volta non saremo disarmati. Covid ha avuto un ruolo o no nella salute orale e di conseguenza nella salute sistemica. Adesso stiamo osservando nel post-Covid e nel non-Covid perché ci sono due cose diverse sicuramente delle manifestazioni orali a livello delle ghiandole salivali, delle mucose e anche dei denti. Però insomma tutto è abbastanza sotto controllo. Al congresso è intervenuto anche il sottosegretario della salute Pierpaolo Sileri. Abbiamo due importanti possibilità per far ripartire il Servizio Sanitario Nazionale. Il primo sono i fondi del PNRR come lei ha poc'anzi detto che consentono un adeguamento strutturale, innovazione tecnologica, telemedicina. Siamo in collegamento con Roberto Scognamiglio, docente di elettronica ed elettrotecnica all'ITIS Alessandro Volta di Napoli. Grazie per essere in collegamento con noi, ben trovato. Grazie, saluto a tutti. Professore, insomma questi ragazzi sono stati bravissimi, sono stati ben guidati e hanno portato avanti un progetto realizzato con la stampante in 3D, un modello in scala di un tratto di galleria green. Come è nata l'idea di questo progetto? Allora, questo progetto didattico fa parte di un progetto organizzato dalla società ELIS, che è una società di formazione di Roma, in associazione con Autostrade ed è un progetto di PCTO, quello che in tempo era alternanza scuola-lavoro e ha interessato una serie di scuole che sono in tutto il territorio nazionale. Il progetto come è stato sviluppato? Ci sono stati degli incontri con degli esperti di autostrade e di ELIS che hanno coinvolto i ragazzi e noi docenti delle materie tecniche applicative e poi a termine di questi incontri ogni scuola doveva preparare un lavoro pensato come un lavoro che guardasse al futuro delle autostrade. Siccome noi siamo un corso che fa automazione, abbiamo immaginato che il luogo dove meglio si potesse concentrare la tecnologia lungo il percorso autostrade e forse proprio la galleria. Ci siamo messi con i ragazzi e abbiamo ipotizzato una galleria del futuro, cioè una galleria alimentata da un pannello fotovoltaico che avesse dei sensori di ingresso e di uscita che controllassero se per esempio un'auto si era fermata dentro e quindi avvertisse l'improbabio incidente, un sensore per l'incendio, sensori per le regolazioni dell'illuminosità in modo da risparmiare sulla luce e diciamo è stato realizzato questo modello in scala con la stampante 3D. Ecco qui qua state vedendo proprio il modello in scala con le prove di collato che abbiamo fatto con dei modellini di auto e sopra c'è il visore dove vengono riportate tutte le informazioni. Questo progetto è stato premiato anche da un importante riconoscimento, è stato scelto e ha vinto un premio importante, insomma questo significa che negli istituti tecnici si può fare alta formazione soprattutto con innovazione tecnologica importante in questo momento nel mondo del lavoro? Sì sicuramente, io direi vorrei utilizzare un po' quello che è la linea guida che stiamo seguendo a scuola diciamo guidati anche insomma come direttive dalla presidenza, praticamente la cosa ottimale per i ragazzi è svolgere insieme a noi un compito di realtà e confrontarsi con il mondo esterno, quindi per esempio in questo caso abbiamo fatto la galleria, ci siamo sottoposti a una giuria, abbiamo vinto il primo premio, questo per capire noi in che punto ci troviamo, per farci un controllo e per esempio in quinta, questa l'ha fatto una quarta, in quinta abbiamo fatto un percorso di PCTO che portasse a dei patentini di guida per i droni, su 25 ragazzi, 24 hanno acquisito un patentino di tipo A1-A3 per pilotare i droni, quindi applicazioni, eventualmente anche proprio applicazioni laboratoriali molto avanzate e confronto con l'esterno per capire esattamente noi in che punto ci troviamo, dove stiamo sbagliando e dove stiamo facendo il bene. Certo, in che direzione state andando? Allora noi la salutiamo, la ringraziamo, complimenti per questo progetto, è importante sostenere anche i giovani e aprirli al mercato del lavoro in un momento per l'economia così complesso. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arte, storia e cultura, questi temi della 27esima edizione del premio Cimitile. Con l'inaugurazione della mostra d'arte alla ricerca della forma dell'acqua, artisti contemporanei per la salvaguardia del pianeta, a cura di Giuseppe Bacci, ha preso il via la 27esima edizione del premio Cimitile. A seguire nel complesso delle basiliche paleocristiane si è tenuto il convegno Effetto Acqua, riflessioni per un utilizzo sostenibile per la salvaguardia dell'ambiente. Durante il convegno è stato presentato il libro Acqua, una biografia di Giulio Boccaletti, scienziato, fisico, scrittore, uno dei maggiori esperti al mondo di sicurezza ambientale, le risorse naturali. L'acqua trasforma il nostro territorio, lo vediamo anche qua a Cimitile, nella storia ha cambiato la natura di questo territorio ed è importante rendersi conto che è soggetto alle nostre decisioni, ai nostri investimenti, a ciò che noi valutiamo. Quindi parte della ragione per la quale ho scritto questo libro è stata quella di elevare la discussione dell'acqua fuori dalla tecnica, fuori solo dalla scienza e parlarne come di una cosa politica, una cosa che interessa a tutti i cittadini perché alla fine decisioni sull'acqua determinano ciò che vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra. Sono intervenuti Nunzio Provisiero, sindaco di Cimitile, Elia Laia, presidente dell'Associazione Obiettivo Terzo Millennio, Giovanni D'Antonio, studente dell'Iceo Torricelli di Somma Vesuviana, Michele Buonomo, direttivo dell'Egambiente Campania, lo stesso Boccaletti ed Ermanno Corsi che ha coordinato i lavori. Il presidente della Fondazione Premi Cimitile, Felice Napolitano. Apriamo questa sera con la mostra alla ricerca della forma dell'acqua, artisti contemporanei per la salvaguardia del pianeta. Sarà una settimana intensa di cultura, storia, arte, riscoperta del patrimonio pubblico, densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di archeologia, musica, spettacoli e concluderemo con la consegna dei campanili d'argento ai vincitori della 27esima edizione del premio Cimitile. Gli obiettivi sono stati sempre promuovere la lettura, il libro, la letteratura, favorendo la promozione culturale, la valorizzazione e la conoscenza delle bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio e di tutta la regione Campania. La Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori regione Campania, città metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo Terzo Millennio, dalla prima edizione organizza questa importante rassegna letteraria nazionale che si concluderà il 18 giugno con la consegna dei campanili d'argento ai vincitori della carmessa letteraria. Arriva a Real Bosco di Capodimonte la campania teatro festival in scena, biriot e turi marionetta. Adamo ed Eva, dopo la cacciata dall'Eden, vengono separati da un potere superiore perché possano vivere ciascuno il proprio esilio in solitudine. Attraverseranno i secoli covando un desiderio di riscatto, determinati a ritrovarsi faccia a faccia con quel dio che li ha ingiustamente mutilati. Si intitola Be Riot, lo spettacolo in scena nell'ambito del campania teatro festival a Capodimonte. La drammaturgia e la regia è di Linda Dalisi che restituisce in prima assoluta uno spettacolo dove la scrittura poetica diventa testo coreografico. In scena infatti la danzatrice Vale alla Rocca incontra l'attore Isacco Venturini per raccontare un'inedita storia di Adamo ed Eva. Oggi mi viene da dire che è molto difficile cercare l'Eden in un mondo in cui un calciatore guadagna 200 milioni l'anno e io non so come pagare l'affitto il mese prossimo. E allora l'Eden, a un certo punto, questi Adamo ed Eva preferiscono farsi piccoli, farsi come due api, entrare in un razzo e catapultarsi nel cosmo perché magari da lì riescono ad ascoltare le cose belle che arrivano dalla terra. In scena, sempre a Capodimonte, Turi Marionetta, scritto e interpretato da Savimanna, un monologo che racconta storie di marionette, pupi, pupari e cantastorie. In un atto unico viene rivisitata la storia sociale delle marionette, esaltando anche la grande tradizione siciliana dell'opera dei pupi. Protagonista è il nonno del professore universitario Salvatore Barone, detto Turi Marionetta. Ma nella vana attesa del nipote che non arriverà mai, il nonno decide di tenere gli stesso il seminario sulla storia delle marionette. È uno spettacolo che omaggia una delle mie più grandi passioni che sono le marionette. Questo è un omaggio a questi pupi che ormai purtroppo sono passati in disuso, ma non è stato sempre così nella storia dell'umanità e questo spettacolo vuole ribadire proprio questo concetto. La scommessa, e credo di esserci riuscita, è proprio questa qua. quella di conservare la tradizione, ma di contestualizzarla al mondo attuale. E questo è quello che Turi Marionetta fa in Italia e nel mondo. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS